Uno degli utilizzi più comuni che si fa del pannello controllo Lumetri è quello dell'assegnazione di una LUT alla nostra clip o al nostro girato. Che cosa è la LUT? La LUT dall'inglese Lookup Table è un file che permette la traduzione dei colori della nostra immagine virandoli secondo le impostazioni specifiche all'interno di quel file. Uno degli esempi più classici che si possono fare è quello dell'utilizzo della LUT per trasformare un'immagine da logaritmica quindi girata in log quindi con un basso contrasto per poter recuperare le luci e le ombre e trasformarla in quella che è la visione più comune dei colori che è la visione a REC 709. La REC 709 è uno standard internazionale per la visione dei colori in tv. Ebbene tutti i produttori di macchine fotografiche, cinepresi o telecamere mettono a disposizione le proprie tabelle di conversione per il proprio girato. Queste tabelle sono essenzialmente delle LUT. Nel mio esempio ad esempio ho un'immagine girata con una Black Magic ed ho il file della LUT per convertire questa determinata immagine logaritmica in un'immagine a REC 709. Questo è il file che io ho della mia macchina da presa con cui ho girato questa clip. Una volta aperto, come vedete, verrà convertita l'immagine da allineare a REC 709. E grazie a queste impostazioni noi abbiamo ottenuto quello che può essere il risultato finale. Nulla toglie che poi possiamo andare a lavorare con i nostri strumenti per la color correction per andare ad aggiustare, a rifinire, quello che dovrà essere il risultato finale. Un'altra possibilità però che ci viene incontro è quello di utilizzare delle LUT creative. Io ad esempio ne ho una da mostrarvi. Questa LUT, che è una LUT che si trova sul web a pagamento, si chiama Vision 4 ed è dedicata alle immagini logaritmiche, quindi a questo genere di immagini un pochino più grigiastre. Aprendola, come vedete, i toni della mia immagine non sono diventati standard, utilizzo questa parola standard tra virgolette, ma sono totalmente virati ad un aspetto tileno orange. Il tileno orange è quando si virano i colori caldi e freddi verso il ciano e questo arancio per le luci più scure. Beh, questa è una LUT detta creativa, che se ne trovano tantissime sul web e grazie all'applicazione con il pannello colore lumetri, abbiamo la possibilità di inserirle sul nostro montato e poi possiamo andare a lavorarle, quindi possiamo andare a correggerle dove troviamo delle sbavature, dove la nostra immagine non è propriamente in linea con quello che è la LUT di riferimento, possiamo andare a correggerle grazie a questi parametri. Abbiamo però un'altra possibilità per essere creativi con Adobe Premiere Pro che è il pannello creativo. Ora, Premiere ci mette a disposizione tutta una serie di preset, che sostanzialmente sono delle LUT di conversione, che ci danno la possibilità di creare delle cose piuttosto particolari. Con questo semplice controller possiamo andare a replicare quello che è ad esempio l'effetto pellicola, un effetto pellicola della Fujifilm o, andiamo avanti, quello della Kodak. Quindi abbiamo una serie di strumenti creativi per poter, una serie di look all'interno di Adobe Premiere Pro che ci permettono di andare a variare il colore, a virare il colore delle nostre immagini. Abbiamo la possibilità naturalmente di utilizzare dei controlli, come aumentare o diminuire l'intensità della luce del nostro filtro che stiamo applicando, quindi del nostro look che stiamo applicando. Abbiamo poi una serie di parametri di regolazione che più che regolazione del colore sono delle regolazioni creative. Abbiamo la possibilità di sbiadire quella che è la nostra immagine, quindi abbassarne i contrasti. Abbiamo la possibilità di aggiungere nitidezza o togliere nitidezza. Abbiamo la possibilità di aggiungere vividezza ai colori e di eliminarla. E abbiamo un altro controllo per aumentare ed abbassare la saturazione. Questi controlli naturalmente vanno ad aggiungersi a quelli che abbiamo a disposizione all'interno della correzione di base. In più abbiamo la possibilità di due ruote colori, una per virare le ombre, la tinta delle ombre, l'altra invece per virare la tinta delle luci. E poi abbiamo uno slider che ci permette di bilanciare tra queste due ruote.